eccoci qua ci siamo siamo in diretta sulla pagina fitness 40 più di facebook siamo in diretta anche sul canale youtube e siamo in diretta anche sul gruppo privato come sapete bene c'è anche il nostro gruppo privato allenamento 40 più per l'osteoporosi che è dedicato a tutte le persone che desiderano migliorare il loro allenamento oppure avvicinarsi e iniziare a muoversi ok perché perché forse hanno sentito dire che l'esercizio può fare qualcosa in tal caso però questa sera visto che mi vedete tanto sulla pagina anche su instagram e quant'altro questa sera io mi vorrei glissare perché ho un super ospite questa sera allargheremo anche un po il tiro parleremo anche di anti aging l'importante per noi è che passi un messaggio ma poi ne parleremo dopo io tanto sto dando siamo al primo minuto sto dando due minuti per me per permettere a tutti di collegarsi vi chiedo innanzitutto che cosa state bevendo se state bevendo la solita buona seratina scriveteci nei commenti se state bevendo la solita vostra tisana e soprattutto che tipo di tisana a che gusto a eccoci qua giovanna giovanna ci tenevi molto a questa diretta che ieri sera e scrivete appunto se avete cenato che cosa avete mangiato se vi va se dovete cenare invece che cosa mangerete non risparmiatevi alla malva la malva eccezionale cecilia eccoti benvenuta buonasera anche a nadia commentate commentate soprattutto vi chiediamo di condividere perché la condivisione perché questa sera faremo una serata di divulgazione scientifica senza nessun aspetto commerciale dietro quindi troverete ancora una volta sulla pagina addirittura qua si parte già con il quiseto ecco quando leggiamo facebook user perché arrivano proprio dal nostro gruppo e quindi vi chiamo facebook user ma poi in realtà siamo persone probabilmente donne perché la maggior parte siamo donne allora questa sera manuela cenato con brodo vegetale commiso molto particolare buonasera isa buonasera anche ecco giovanna allora la tisana ne ha vita mela e cannella ottimo ottime proprietà poi chiederemo al nostro ospite anche la cannella comunque giovanna cena con bietta ripassata in burro chiarificato e quattro uova delle mie gallinelle direi top fantastico e tina è andata leggera di minestrone attenzione perché in questo caso è non parleremo questa sera di alimentazione ma forse mancano le nostre amate proteine che sono un po i mattoncini delle nostre ossa a qualcuno ci scrive ahimè la pasta al pomodoro è buona la pasta al pomodoro però la passiamo cena con chinoa e zucca minestrone uovo buonasera anche a francesca buonasera simona direi che siamo arrivati ai primi tre minuti ci siamo con le connessioni io però farò ancora qualche condivisione tra poco quindi diventeremo ancora di più ma soprattutto vi voglio presentare se è la prima volta che state ascoltando sui nostri canali un grandissimo ospite personalmente sono a tè verde ecco poi vi dirò vi svelerò durante la serata la mia isana di questa sera quanta zucca che vedo vi stavo dicendo uno dei capisaldi dell'antiaging in italia della medicina funzionale la medicina e poi chiederemo a lui anche quando parliamo di medicina funzionale cosa intendiamo anche se so che siete tutti molto ben consapevoli e colti allora hamburger di carne macinata e formaggio svizzero due uova il tegamino radicchio rosso saltato con pezzettini di pecorino morin allora morin che segue i nostri percorsi morin io sono sicuro che con la tua volontà e con gli allenamenti che stai facendo soprattutto come stai mangiando ti assicuro che veramente tra una una manciata di mesi migliorerai eh perché perché ci siamo eh allora brodo brodo con uovo grana dentro a canocchie le canocchie non so cosa sono eh madia broccoli e formaggio ma torniamo a noi perché mi sto perdendo nei meandri della cucina sta diventando una puntata di master chef invece sta venendo anche la colina nonostante io abbia già cenato vi presento questa sera con noi il dottor Francesco Balducci benvenuto grazie grazie Davide ringrazio anche tutte le gentili spettatori ma medico pronto pronto mi senti sì sì io ti sento è andata via un attimo la voce sì sì sento eccoci qua allora è andata via un attimino sì sì è andato via un attimino la connessione allora eh Francesco ti chiedo di presentarti ai nostri eh ai nostri seguaci ai nostri follower di questa sera eh ci chiedi poi dopo vi dirò anche cosa c'era nella mia cena però ti chiedo di presentarti e soprattutto poi di introdurre l'argomento della serata sono tutte donne vedo anche se può colpire può colpire può colpire qua forse per te tutte donne questa sera eh il sesso maschile hanno visto l'ospite che c'era allora e ringrazio tutte le spettatrici eh eh anche che hanno descritto tutte le le cene particolari eh qualcuno dice anche le cannocchie non sapevo nemmeno io cosa fossero le cannocchie certamente cicale di mare ah cicale di mare ok quindi sono crostacei sostanzialmente ottima scelta allora mi presento qualcuno di voi già mi conoscerà mi chiamo Francesco Balducci sono un medico eh esperto in eh medicina eh anti-aging ah c'è anche un maschio giustamente l'ha sottolineato eh esperto in medicina anti-aging cos'è la medicina anti-aging è la medicina tutto sommato preventiva predittiva rigenerativa potenziativa la vera medicina ipocratica diciamo che ci eh dovrebbe consentire di mantenere la piena efficienza fisica e mentale possibilmente fino all'ultimo dei nostri giorni voi sapete che quando si parla di invecchiamento una parte importante è sicuramente la genetica ma non è la più importante la genetica ha un peso di circa al venticinque trenta per cento ovviamente se si hanno ottimi genitori ottimi avi dal punto di vista genetico si è sostanzialmente più fortunati si è avvantaggiati ma quello che fa la differenza è il nostro stile di vita quella che viene definita oggi modernamente epigenetica dal greco epi che significa sopra quindi ancora più importante della genetica lo stile di vita comprende l'alimentazione che noi seguiamo l'attività fisica le abitudini volutuarie no anche cosa pensiamo co cosa facciamo chi frequentiamo perché care spettatrici e spettatore noi siamo anche emozioni cioè non siamo solo ormoni neurotrasmettitori sostanze chimiche quindi freddamente valori ematici di laboratorio ma siamo sostanzialmente emozioni le emozioni condizionano il funzionamento del nostro organismo voi sapete che esiste una stretta correlazione tra psiche e microbiota che è la popolazione di batteri favorevoli che si chiamano simbionti e potenzialmente patogeni che si chiamano patobionti che albergano in modo molto numeroso nel nostro intestino esiste una connessione tra psiche e microbiota a tal punto che lo stesso intestino meglio il microbiota viene considerato primo o secondo cervello comunque l'estensione del nostro cervello questo per dirvi che non è che dobbiamo visto che il titolo è migliori integratori per l'osteoporosi considerare gli integratori come la pillola magica cioè quelli che risolveranno il nostro problema sì sicuramente l'integrazione specifica personalizzata e biotipizzata è molto importante per tutti perché va a colmare quelle lacune quelle carenze ma la vera differenza è comporre l'intero mosaico del benessere ovvero mettere tutte le tessere tutte diciamo i tasselli che sono indispensabili per ottenere un risultato ottimale e quali sono questi tasselli la corretta alimentazione secondo natura non secondo le mode non secondo guru improvvisati ma secondo quello che la natura ha stabilito per noi da migliaia se non centinaia di migliaia milioni di anni l'attività fisica costante perpetua e duratura perché non basta fare attività fisica dai 10 ai 20 anni dai 20 ai 30 anni puoi vivere di rendita no è proprio quando si ha un abbassamento degli ormoni con la menopausa per quanto riguarda le donne allora lì che si bisogna veramente porre l'acceleratore su un certo tipo di attività fisica come vedremo il terzo pilastro fondamentale di questa piramide del benessere è sicuramente la gestione dello stress perché uno può anche mangiare bene può anche integrare con tutti i meravigliosi integratori può anche fare attività fisica ma se avvelenato quotidianamente da una situazione familiare disdicevole o lavorativa o comunque ha delle problematiche e beh chiaramente non potrà mai ottenere un risultato ottimale quindi la gestione dello stress è molto importante noi dobbiamo cercare di essere meno vulnerabili allo stress cronico lo stress acuto può essere anche utile perché ci aiuta ad adattarci agli stimoli ambientali e quello che viene definito eustress e il quarto pilastro ci soffermeremo sicuramente quello dell'integrazione specifica personalizzata che non deve essere come dica io un tanto al chilo cioè liste di integratori perché l'ha detto l'amica l'amico perché l'avete letto su 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 instagram o su facebook noi siamo tutti diversi chiaramente ci sono delle linee guida generali ma poi va personalizzata e biotipizzata cosa dici davide penso che tu sia d'accordo su questo assolutamente assolutamente ecco l'aspetto più importante che hai sottolineato e che fino a oggi meglio oggi fino agli ultimi anni abbiamo sottovalutato l'aspetto emozionale che hai sottolineato molto bene infatti sono tantissimi gli studi che correlano lo stile di vita al funzionamento del brain del nostro cervello ok si è visto addirittura come l'attività fisica crei un'ossigenazione migliore una migliore interconnessione a livello neurale no e questo cosa vuol dire vuol dire buon umore il buon umore cosa cosa porta porta a un miglioramento dei rapporti familiari dei rapporti con amici sul lavoro e quant'altro ed è stato proprio sottovalutato tutto il discorso collegato al discorso della pnei magari stiamo entrando nella psico neuroendocrine immunologia magari un campo che per per i tanti è misconosciuto si può riassumere in un concetto di provo delle emozioni positive vengono liberati modulati gli ormoni nel nostro corpo che permettono diciamo tra di loro di funzionare correttamente un eccesso di stress soprattutto quando non viene canalizzato sotto forma di energia pensiamo a un'iperproduzione di cortisolo che conosciamo tutti sappiamo bene anche la correlazione tra il cortisolo e l'insorgenza di osteoporosi ovvero il cortisolo è un ormone eccezionale che il nostro corpo produce per attivarci soprattutto durante la giornata quando però viene iper prodotto in maniera cronica che cosa provoca provoca uno sconquasso nel nostro corpo prescindere da tutto ciò che porta sull'osso va a portare un eccessiva eccitazione durante il giorno quando in realtà non riusciamo poi a canalizzare tutta questa iperproduzione che poi insieme all'adrenalina non l'adrenalina mettiamo che io sul lavoro mal digerisco delle situazioni ecco tutti questi quattro cinque litigi che faccio giornalieri mi provocano un disequilibrio all'interno del mio corpo succede qualcosa questa sera non andiamo troppo nel medichese però è solo per farvi capire che l'aspetto che ha sottolineato sulla gestione dello stress che fino negli ultimi anni era diciamo abbastanza sottovalutato gli studi anche gli studi scientifici hanno riportato di come sia fondamentale imparare a gestirlo è arrivato un tonno patatelesse insalata tisana spice liqueo rice mara me la devi dire questa spice liqueo rice ecco volevo solo salutare che ho visto il il dottor zeggio neurologo e soprattutto inventore del collagene neugela ecco quindi questa sera abbiamo la creme della creme buonasera daniele e ti lascio la parola eh io mi sono agganciato un pochino a quello sì sì no no certo interessante questa cosa era per sottolineare il cosa si intende per medicina anti aging si intende appunto una medicina rigenerativa poi per carità ci sono tanti altri termini che possono destare e creare confusione si parla di medicina integrato integrativa di medicina funzionale ma alla fine tutte queste branche della medicina hanno un unico obiettivo quello di migliorare l'efficienza fisica e mentale e soprattutto di impedire o di evitare la comparsa di malattie degenerative età correlate e qua quali sono le più comuni a parte che lasciamo tralasciamo le principali cause di morte sappiamo benissimo che sono incidenti cardio cerebrovascolari e i tumori però quali sono quelle che io definisco con un termine mitologico le erini della senescenza dell'eteria no le erini erano delle divinità mitologica che perseguitavano l'essere umano no dette anche furie allora le tre erini della senescenza che si presentano molto spesso in grado nella gran parte della popolazione over 60 over 70 sono tre e sono la sarcopenia ovvero la diminuzione della massa e della forza muscolare la osteopenia o e la franca osteoporosi che la diminuzione della densità e dalla qualità dell'osso e l'artrosi che spesso si accompagna no perché abbiamo osteoartrosi quindi spesso non è che siano disgiunte anzi sono tre sorelle terribili che lavorano all'unisono per tormentare la terza età quella che io chiamo l'età della senescenza dai 60 anni in poi e anche prima a volte ecco quindi noi dobbiamo cercare di evitare l'insorgenza poi per carità qualora fossero insorti ci viene in aiuto sia il nostro stile di vita epigenetica e poi ovviamente anche una buona integrazione quindi qual è il primo il primo pilastro fondamentale e beh è inutile dirlo la corretta alimentazione allora di cosa è fatta la nostra massa magra io vi dico sempre la struttura l'architettura del nostro corpo ecco una signora dice cosa si deve mangiare adesso lo dirò ecco l'architettura del nostro corpo la struttura del nostro corpo che cos'è ossa muscoli articolazioni pelle organi interni ma aggiungo anche neurotrasmettitoni parte di ormoni e enzimi tutte queste belle cose che viene ricordato sono di natura proteica ricordatevelo bene proteica e cosa significa proteine viene dal greco ecco perché bisogna sapere a volte un po di etimologia proteina viene dal greco e significa alimento principale è il più importante e invece oggi viene quasi demonizzato no stai attento alle proteine affaticano il rene ecco poi queste queste diciamo favole che derivano chissà da quanti anni ma non lo sono sentito dire all'università affaticano il rene siccome l'uogo affatica il fegato vedi questo fegato che suda il rene che suda si fai mangiare le proteine quindi si condannano le persone cosiddette anziane over 60 over 65 a mangiare le minestrine alla sera con un po di verdurine è finita lì proteine zero e quindi questo cosa significa che vanno a depauperare cioè impoverire la struttura plastica quindi se non si parte da questo cioè da una corretta alimentazione che deve garantire il giusto apporto proteico non si può andare poi a parlare né di integrazione né di prevenzione quindi quali sono le proteine nobili le proteine nobili che che ne dicano alcuni nutriziosauri televisivi come dico io sono quelle che da sempre l'indigeno senza avere facebook il telefonino e senza andare a sentire chissà chi mangia perché lo mangia per istinto naturale pesce pescato e non allevato ovviamente allevato a soia che è un'aberrazione possibilmente di piccola taglia perché chiaro c'è esiste anche la microplastica e l'inquinamento da metalli pesanti nei nostri mari fare una puntata addirittura sui metalli pesanti e l'osso metalli pesanti appunto adesso c'è il problema problema della microplastica che è drammatica perché agisce come interferente ormonale e quindi si sostituisce ai nostri ormoni a livello anche ricettoriale cefalopodi cefalopodi non fanno parte della specie dei pesci cosa sono polpo calamaro seppi e totani moscardini contengono tra l'altro una buona dose di calcio biodisponibile crostacei non dimentichiamo anche la signora prima ha nominato quelle quelle crostali cicale di mario sono i crostaggi sono interessanti perché nel loro carapace contengono anche la chitina e anche una sostanza che si chiama beta ecdisterone che è una sostanza anabolizzante naturale no presente anche negli insetti sai che adesso ci vogliono far mangiare gli insetti poi carne di qualità ecco anche la carne che viene demonizzata si è chiaro viene presa sempre a paragone la carne dagli allevamenti intensivi oppure quelle orrende poltiglie di carne che troviamo a volte che sono le carni separate meccanicamente e beh lo credo anch'io che quella è porcheria quelle sono porcherie perché sono pro infiammatorie e non c'è bisogno di fare studi invece le carni no no volevo solo interromperti solo un secondo perché qua volevo soffermarmi su una domanda che viene spesso fatta e una strumentalizzazione che viene spesso fatta sulla carne perché perché quando si parla di carne tendiamo tutti a fare di un erbo un fascio ma ricordatevi che lui ha fatto questa distinzione importante perché sono per farvi capire e tutti quei booster tutta quella carne lavorata che è correlata all'insorgenza della patologia delle neoplasie quindi del tumore ok perché viene fatta di tutta un erbo un fascio perché poi viene detta no non mangiare la carne rossa no non mangiare la carne perché fa male o quant'altro attenzione perché c'è da fare questa distinzione è importante volevo soffermarmi proprio su questo aspetto perché mi viene chiesto spesso e soprattutto nascono sempre delle polemiche su questo discorso della carne però ricordatevi le carni lavorate sono una cosa la carne da allevamento è allevamento non industriale si chiamiamo così prego vai certo c'è una differenza tra carne da allevamento intensivo che non va assolutamente bene perché pro infiammatoria tra l'altro questi animali prima si è parlato di cortisolo no gli animali in allevamento intensivo sono animali che soffrono soffrendo aumentano la produzione di cortisolo e quindi sono carni grasse iper cortisoliche infiammate quindi noi mangiamo carne infiammata e infiammatoria in quel caso diverso poi per non parlare poi delle carni processate trattate come gli insaccati e quant'altro mentre molto diverso è mangiare la cacciagione oppure la la carne di animali che sono allevati a pascolo ad erba e fieno e non a soia ricordo che la soia contiene fitoestrogeni tra l'altro no quindi c'è da fare un'enorme differenza io ho fatto esaminare anni fa a scopo dimostrativo proprio la carne cosiddetta grass fed a pascolo libero erba e fieno rispetto alla carne invece di provenienza da allevamento intensivo c'è una differenza abissale nell'una nella prima c'è presenza di omega 3 praticamente a livello quasi del pesce e dei cefalopodi voi sapete che gli omega 3 sono grassi pro infia anti infiammatori estremamente positivi no sia per la salute cardiovascolare che per quella c'era neuro cerebrale no c'è soprattutto dh era anche retinica nell'altra invece di omega 3 praticamente erano inesistenti ma la stessa differenza anche tra il salmone selvaggio e il salmone d'allevamento attenzione il salmone selvaggio contiene omega 3 il salmone d'allevamento a cui danno la soia e mi domando quando mai il salmone selvaggio vede la soia in vita sua quindi un'aberrazione salmone selvaggio di omega 3 non ce n'è neanche un'ombra non solo ma viene anche colorato addirittura con coloranti artificiali per esempio come il rosso cocciniglia quindi non bisogna fare di ogni erba un fascio ma bisogna fare sempre di distinguo quindi queste persone che fanno di ogni erba un fascio non hanno né la preparazione né l'onestà intellettuale perché non vi danno la giusta informazione c'è sempre come anche come anche e lì ci dice la carne aumenta il colesterolo insieme ai formaggi ma anche questa anche questa è una scusate il termine una fesseria perché il colesterolo endogeno cioè quello che viene misurato nel sangue è solo in minima parte se non un 5 per cento derivante dal colesterolo alimentare pensate che il fegato mette almeno una trentina di passaggi per produrre il colesterolo che è una molecola straordinaria ecco stasera si parla di osteoporosi ma io potrei parlare di due ore per il colesterolo il colesterolo è una molecola fondamentale che ha subito una demonizzazione assurda da parte di coloro che hanno interesse a vendere poi farmaci per abbassarlo allora il colesterolo vi dico una cosa rivoluzionaria lo so perché sono preparatissimo sull'argomento e sfido chiunque non è il fattore principale del reale rischio cardio cerebrovascolare ho realizzato prima in italia la carta del rischio cardio cerebrovascolare basata su 40 parametri e non solo sul colesterolo totale e vi dico che i principali parametri sono le LDL ossidate le small dense LDL i rapporti tra polipoproteina 1 e AB il plaque test il DROM test e il BAP test per lo stress ossidativo e udite udite la valutazione del TMAO che è un trimetilamina ossido prodotto dai batteri intestinali perché esiste anche una connessione cuore intestino altro che colesterolo totale colesterolo totale fondamentale per produrre gli ormoni lipidici progesterone testosterone androstenedione pregnenolone deidroepiandrosterone derivano tutti dal colesterolo per non parlare poi della vitamina D per non parlare delle membrane citoplasmatiche cellulari del cervello delle guaine mieliniche di cosa stiamo parlando il colesterolo è importante quindi è la nostra molecola preziosa ma poi l'argomento si correla fortissimamente con l'osteoporosi perché l'hai appena detto è il precursore della vitamina D quando ci ritroviamo con le vitamine D a 15 ci potrebbe essere anche proprio una carenza in tal senso allora il colesterolo deriva cioè il colesterolo è precursore della cosiddetta cascata degli steroidi sessuali quindi ormoni anabolici che sono fondamentali anche per la salute delle ossa tant'è vero che quando è che la donna è più vulnerabile all'osteoporosi quando va in meno pausa pausis vuol dire cessazione della produzione di ormoni la donna è più vulnerabile perché mentre nel maschio abbiamo comunque una produzione di testosterone un po più prolungata nel tempo nella donna c'è proprio una drammatica caduta e da dove derivano estrogene progesterone derivano dal colesterolo cioè non dimentichiamolo quello nessuno me l'ha detto care spettatrici è bene che voi lo sappiate così come hai nominato anche le ldl ossidate che attenzione non sono le ldl che leggete sul referto quando no no quindi voi che avete magari paura perché c'è quel benedetto maledetto asterisco sul colesterolo che per inteso c'ho anch'io questo asterisco perché godono a metterlo se uno non ha 200 no che 200 allora ti salva da tutto non è assolutamente vero perché vi dirò anche che quasi la metà degli incidenti cardio cerebrovascolari occorrono in soggetti che hanno il colesterolo sotto 200 e quindi cos'è allora vuol dire che ci deve essere un altro chiamo la monetina è chiaro no allora fatevi questo esame fatevi ldl ossidate fatevi l esame dello stress ossidativo di sbiosi teste con la valutazione del timao questi sono molto più importanti del colesterolo totale e poi sono i rapporti che contano va bene ma stiamo divagando stiamo di certo 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 ecco addirittura giovanna dice bene io sono fiera di quell'asterisco bene poi chiaramente noi quando diciamo diciamo di non avere paura sappiamo bene da dove arrivano le vostre tra virgolette convenzioni o quant'altro non arrivano chiaramente da voi perché magari non siete competenti in materie ma arrivano magari dal dottore che ha visto quel 214 e vi ha detto colesterolo un po alto se ritorna con questi esami dobbiamo iniziare a pensare di prendere per esempio le statine quindi è chiaramente nasce tutto dall'alto e sappiamo bene che non è di una la vostra farina comunque dicevi continuiamo allora arriviamo a questa famigerata integrazione no alla ai nutraceutici o alle piante che possono essere utili in caso di una bassa densità minerale ossa allora prima di arrivare all'integrazione volevo anche dire all'attività fisica che è la secondo pilastro perché quale attività fisica allora l'attività fisica migliore purtroppo lo devo dire non è il nuoto in questo caso quindi per carità io non ho niente contro il nuoto però per ottimizzare i risultati l'attività migliore è pesi e corpo libero faccio sempre l'esempio degli astronauti gli astronauti che sono tra diciamo gli umani in forma migliore in forma splendida che fanno un sacco di selezioni per arrivare a essere astronauti quando vanno poi nell'orbite stanno mesi ritornano e sono osteopenici li devono addirittura raccogliere addirittura con la carrozzella e poi devono fare un intensa programma di riabilitazione perché perché l'assenza di gravità determina un impoverimento dell'osso dovete sapere che l'osso ma lo saprete già sicuramente perché Davide ve l'aveva detto un sacco di volto non è un tessuto a termine un tessuto che in continuo rimaneggiamento e altrimenti noi non potremmo guarire dalle fratture no se non fosse possibile diciamo una rigenerazione dell'osso e c'è un equilibrio tra cellule che si chiamano osteoblasti che sono cellule produttrici di osso e cellule invece che si chiamano osteoclasti che sono distruttrici di osso come sempre nel nell'organismo ci vuole omeostasi equilibrio no però se sono preponderanti gli osteoclasti allora chiaramente abbiamo una diminuzione della densità e dalla qualità dell'osso ecco estrogeni ma anche il progesterone si dà sempre troppa importanza agli estrogeni rispetto al progesterone vanno a regolare questo rapporto e stimano l'attività degli osteoblasti cioè quella rigenerante ecco perché l'ormonoterapia visto che stiamo parlando di integrazione e questa è sostanzialmente anche un'integrazione post menopausale l'ormonoterapia con ormoni bioidentici abbiamo parlato spessissimo ecco bioidentici e non di sintesi artificiale se è estremamente utile se non è la migliore terapia in assoluto per contrastare una osteoporosi al punto che per esempio anche il progesterone è in grado di riguadagnare un punteggio nel famoso t-score dell'osteoporosi e dell'osteopenia cioè addirittura di migliorare non solo di arrestare un osteoporosi terapia ormonare con ormoni bioidentici attenzione cosa significa che è un mix di estriolo e di 17 beta estradiolo bioidentico e soprattutto progesterone bioidentico e non progestinico quindi esente da quegli effetti collaterali degli ormoni sintetici artificiali giusto davide certo 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 questa tra l'altro negli ultimi anni sono tanti gli studi che ne evidenziano i benefici mentre fino a qualche anno fa erano state po questi studi che adesso io non voglio mettermi a a a sindacare però studi che proprio dicevano che gli ormoni bioidentici potevano provocare dei danni o quant'altro innanzitutto abbiamo avuto ne ha parlato una delle maggiori esperte anche in Italia la Cristina la Cristina Tomasi ne abbiamo parlato della della TOS e soprattutto detto che andrebbe iniziata nei primi anni post menopausa proprio perché ha questo effetto nella fase post menopausale e soprattutto l'importante è capire che è possibile fare una cura definita farmacologica con questi ormoni l'importante è andare da un esperto che sappia ben dosarli e non sottostimarli perché perché se ci aspettiamo dalla cremina che faccia effetto la cremina molto probabilmente servono delle dosi molto più elevate per ottenere poi gli effetti che si desidera ecco ci arriva appunto su questo su questo una domanda a tema che ma chi è in menopausa da farmaci a causa di un tumore questi ormoni bioidentici sono compatibili allora beh allora chiaramente poi da caso a caso è evidente che in in caso di tumore in atto non andiamo a cercarci scusate a termine ulteriori rogne e quindi non andremo mai non penseremo mai una terapia ormonale perché sono sempre comunque proliferativi tendenzialmente proliferativi ora nel caso di una familiarità ai tumori o nel caso di un tumore pregresso ormai guarito con opportuni esami che vanno a valutare io per esempio faccio sempre fare il test estro profile il test estro profile con le urine mi dà informazioni sul delicato rapporto tra l'estrone proliferativo e l'estrone protettivo perché dovete sapere che non è vero che la donna in menopausa non produca assolutamente più estrogeni cioè non è che sono zero e la corteccia sul renale non più l'ovaio ma la corteccia sul renale continua a produrre continua a produrre soprattutto estrone sapere se è un estrone protettivo un estrone proliferativo può essere molto importante anche per avere delle informazioni ad essere un po più sereni in caso di una terapia ormonale sostitutiva anche bioidentica ottima cosa non l'avevo mai sentita molto molto interessante e allora sono arrivate tante domande perché hai suscitato davvero il calderone dell'alimentazione dopo direi che allora riccardo cristina dopo magari alla fine le leggiamo tutte e facciamo un botta risposta perché sono arrivate tante anche sull'attività fisica e e quant'altro adesso qualcuno ci dice altro visto che parlavi della tosse altro che cristallizzazione dell'osso da bifosfonati grandi contenuti e ti lascio ancora la parola vai allora concludendo sull'attività fisica quindi qual è l'esercizio migliore pesi e corpo libero quindi grandi esercizi che sono lo squat lo stacco gli affondi il calf il sollevamento sulla punta dei piedi con i manubri chiaramente non dobbiamo diciamo non dobbiamo dimenticare anche il distretto superiore quindi piegamenti sulle braccia pettorali la cosiddetta panca piana rematore bicipiti tricipiti sono i classici esercizi fondamentali dieci meravigliosi io li chiamo i dieci meravigliosi che si possono dividere una tabella a per il distretto superiore eventualmente una tabella b per il distretto superiore con sempre gli addominali nelle due tabelle e allenarsi quelle due ore a settimana poi ci sono tanti protocolli per carità ma questo è il più semplice una tabella di un'oretta una tabella b di un'altra oretta in sostanza due ore a settimana che significa già tanta roba tanta cosa e poi ognuno può anche decidere di fare 20 minuti al giorno ci sono programmi anche di 20 minuti al giorno ma la tabella è la tabella b se uno lo fa con costanza e soprattutto protratta nel tempo porta ottimi risultati senza dimenticare anche l'attività aerobica l'attività aerobica che non deve essere però eccessiva io dico sempre nei miei corsi l'attività aerobica a una certa età deve essere ormetica che parolona cosa vuol dire ormetica né troppo poca né eccessiva perché se da giovane e io l'ho fatto anche per parecchi anni uno magari si può anche permettere di fare un'attività eccessiva perché ha tutti i sistemi antiossidanti al top alla situazione ormonale al top eccetera chiaramente a partire dai 50 60 ed oltre i nostri sistemi sono un po più pigri e quindi direi che l'attività fisica non deve essere di tipo esagerato di tipo agonistico per carità poi ogni tanto si può anche fare perché perché è chiaro che si producono se no troppi radicali liberi si produce cortisolo prima parlava davide del cortisolo il cortisolo non si produce solo in un caso di che ne sono mobbing stalking situazioni avvelenanti familiari ma anche per un eccesso di attività sportiva per esempio una maratona ipotizziamo è una maratona adesso io non è che mi voglio nemicare chi chiama le maratone le ho fatte anch'io ho fatto anche ultra maratone ma è indiscutibile che una maratona porta un aumento dei radicali liberi e anche un aumento del cortisolo questo non dico io lo dicono gli studi basta fare un esame prima e dopo con il dosaggio del cortisolo salivare quindi ora fare maratone ripetute a una certa età può portare ovviamente a un peggioramento della massa magra e non a un miglioramento basta vedere il tipo dei maratoneti ecco quindi attenzione a non fare infatti ho riportato proprio degli studi su dei corridori in bici e su dei maratoneti dove si era vista che calava purtroppo la massa ossea proprio perché questa tipologia di attività soprattutto pensiamo al ciclismo dove mantieni per tante ore una determinata posizione che è un po' anti evoluzionistica per quanto possiamo chiamare il termine giusto evoluzione in questo momento la nostra evoluzione è purtroppo fatta da dal cellulare ci sta un po' portando in una fase di involuzione no però purtroppo ci sono degli sport diciamo che non vanno bene in primis magari soprattutto nelle ostoporosi un po' più avanzate sicuramente non nelle ostoporosi grave ma proprio parlo di ostoporosi per la ostoporosi avanzata con un alto rischio di frattura sicuramente gli sport di squadra quindi sport dove abbiamo dei cambi frequenti di direzione penso per esempio al tennis anche stupidamente al ping pong dove ci sono torsioni e piegamenti che magari la persona che non è un movimento una sportiva fa la diciamo l'attività della domenica può veramente essere pericoloso e portare la cosiddetta frattura non dico spontanea ma quasi è perché poi esatto esatto vertebre e femore perché dato io su questo specifico sempre la consapevolezza corporea la prima cosa che noi insegniamo nei percorsi è iniziare a percepire il proprio corpo a migliorare la coordinazione esso e una sotto diciamo categoria della coordinazione che è l'equilibrio perché perché con l'età tende a diminuire proprio il cammino è molto più difficoltoso è molto più inconsapevole quindi un semplice esercizio qualcuno scrive lo yoga io ho fatto dei video su alcune posizioni dello yoga che purtroppo magari una persona con osteoporosi che ha esperienza sullo yoga riesce a fare ma altre persone fanno quella posizione che non sono abbastanza consapevoli non hanno la consapevolezza del respiro dell'attivazione del traverso dell'addome che è un muscolo profondo per gli addominali che aiuta diciamo la colonna vertebrale nei movimenti può provocarsi delle problematiche ma non voglio perché qui stiamo entrando con super domande sulla ginnastica non voglio allargarmi troppo su questo discorso quindi in sostanza il bodybuilding il bodybuilding funzionale è l'ideale e le donne sono un po' restie no quando sentono questo termine bodybuilding allora lo chiamiamo bodybuilding adattato che proprio la specialità per la quale poi ho fatto la specialistica io kinesiologia clinica che si occupa di attraverso lo sport di arrivare alla salute non di fare performance quello che hai nominato prima la maratona diciamo ci si prepara per una performance non per stare bene ok esatto 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 vai allora quindi arriviamo finalmente al a questo quarto pilastro no integrazione specifica personalizzata voi sapete che la medicina convenzionale quando c'è un quadro di osteoporosi sostanzialmente poi da bifosfonati poi dal denosumab che è un farmaco cosiddetto biologico che va a lavorare proprio sull'equilibrio osteoclasti osteoblasti e poi va bene un tempo si dava addirittura il ranelato di stronzio con pesanti effetti collaterali ce ne sono altri è però adesso sostanzialmente non vogliamo parlare di farmaci ma parliamo invece di integratori al primo posto c'è ovviamente la vitamina d perché voi se fate un dosaggio della vitamina d e vi ritrovate con una vitamina d sotto le scarpe cioè a 10 a 8 a 9 è chiaro che il primo presidio da attuare questo la vitamina d ora in giro c'è qualcuno anche che dice che la vitamina d è tossica ora mi viene da ridere perché è tossica per i topi vabbè ma noi non siamo topi anche il cioccolato è tossico per i cani e il latte io vi dico per i per i cani e il latte è tossico per i gatti anche se molti danno latte ai gatti ma noi non siamo non siamo né cani né gatti né topi ora dire che la vitamina d sia tossica mi sembra un po un'esagerazione diciamo che forse a volte magari sarebbe bene non non prenderla proprio per 365 giorni cioè tutto l'anno ma ogni tanto anche risvegliare i nostri sistemi di autoproduzione vi ricordo che la vitamina d intanto oggi è considerato un ormone meraviglioso pensate che agisce come un ormone a recettori come un ormone e ha una proteina che veicola la vitamina d esattamente come gli ormoni come molti ormoni sono veicolati da una proteina però è anche considerato una vitamina perché noi non possiamo farmi a meno sia per la salute delle ossa ma non solo anche per le sue straordinarie qualità extrascheletriche perché la vitamina d scoperta se non erro nel 1919 quindi diciamo un centinaio di anni fa inizialmente era stata relegata solo per la sua funzione di salute ossea in realtà oggi che visto è che agisce su oltre 2000 geni quindi a funzioni cosiddette epigenetiche e a funzioni anche importante straordinarie sul sistema immunitario ma anche come protezione sulla neurodegenerazione pensate se visto soggetti sono studi visto che abbiamo se non ero un neurologo anche tra gli spettatori studi che correllano bassi livelli di vitamina d con la depressione quindi anche questo è interessante allora quali sono i dosaggi ideali qui si apre una diatriba no perché prima ce l'ha scritto 30 adesso poi l'hanno abbassato ho visto in alcuni laboratori a 12 poi le stesse società per l'ostoporosi mondiali hanno tutti delle indicazioni diverse comunque il 30 ecco io dico questo che per diciamo essere un po tranquilli tranquille e per godere ecco anche degli effetti extrascheletrici della vitamina d il valore secondo me minimo è accettabile e sopra 50 per per essere un po tranquilli ora non c'è bisogno di avere 250 come qualcuno è perché c'è qualcuno che in qualche social god è io si vangiano 254 e sembra di giocare sai ma no non è così per carità io ho pazienti anche pensate in nuova zelanda ho avuto due pazienti in nuova zelanda tramite video consulenza in australia lì alcuni laboratori mettono come valore massimo 250 quando qui in italia come valore massimo alcuni laboratori dicono sopra 60 tossicità ecco io voglio capire voglio capire se noi siamo diversi dagli australiani dai neozelandesi cioè noi se abbiamo 61 ci intossichiamo il neozelandese se sei 249 invece sta bene ecco queste assurdità laboratoristiche mi fanno sorridere quindi quando vedete l'asterisco ogni tanto bisogna anche considerare e valutarlo attentamente quel famoso farlo leggere da persone che lo sanno leggere ecco chiaramente allora per stare tranquilli diciamo tra i 50 ai 100 poi per carità a volte si può avere bisogno anche di una supplementazione di vitamina d un conto l'integrazione un conto la supplementazione nelle patologie autoimmuni per esempio ci può avere anche si può essere anche l'interesse di supplementare per avere un surplus di vitamina d e per sfruttarne le sue doti diciamo nel campo dell'immunità discorso della vitamina d e della k2 molto spesso mi dicono ma quando prendo la vitamina d devo prendere anche la vitamina k2 allora e poi quando vanno prese al mattino una la sera al pomeriggio precisiamo la vitamina d è sinergica e agonista della vitamina a mentre sinergica e antagonista della k2 cosa significa che la vitamina d può essere presa insieme alla vitamina a ma la vitamina k2 pur essendo sinergica però è antagonista sui recettori e quindi può ostacolare la vitamina d nel legame dei recettori quindi è meglio prenderla a distanza questo non lo dico io ma lo dico perché ho letto diversi studi poi io chiaramente 50 studi se 48 mi dicono una cosa prendo in considerazione quei 48 non prendo quei due che dicono il contrario perché improvvisamente si svegliano e dicono che è così quindi personalmente io in questo momento sto supplementato sto integrando la vitamina d e la sto prendendo al mattino e la k2 per comodità la prendo alla sera vi ricordo che sono due vitamine liposolubili quindi cosa significa liposolubili che sono come non solo anche la liposolubile e la e a dec a d e k sono liposolubili mentre la vitamina c è idrosolubile quindi la vitamina d la vitamina k2 dovrebbe essere preso tutto un pasto idealmente dove c'è del grasso quindi quando vi dicono di mettere le gocce di base sul pane vi dicono una sera perché va preso semmai no dicono mettete un po di olio sul pane e ci mettete le gocce giusto io invece personalmente se uso le gocce a volte uso le compressine le uso direttamente o con una mandorla una noccia sull'uovo con la colazione anabolica che mi faccio al mattino dove sono sempre presenti le uova quindi k2 mk7 perché la k2 importante precisiamo perché va a stimolare l'osteo calcina l'osteo calcina anche questo è fondamentale per la apposizione per la produzione di osso e poi evita che il calcio che viene assorbito dall'intestino attraverso la vitamina d non vada dove non deve andare cioè nei tessuti molli e magari nelle arterie ma vada veicolato esattamente nelle ossa e quindi abbiamo chiarito questo aspetto di vitamina d e di vitamina k2 ma anche la vitamina a è importante quindi direi vitamina d vitamina a e k2 è chiaro che ha un'altra vitamina gioca un ruolo importante che la vitamina c la vitamina c idrosolubile possibilmente con flavonoidi perché i flavonoidi migliorano l'effetto antiossidante della vitamina c flavonoidi cosa sono sono quelle sostanze contenute nel pericarpo del frutto quello che generalmente voi buttate quando fate usate all'estrattore io sono contrario all'estrattore perché nell'estrattore eliminate tutta quella polpa ricca di flavonoidi che sono isperidina rutina quercetina quelle meravigliose sostanze ad azione antiossidante allora vitamina c come sapete non è solo un antiossidante ma stimano produzione di collagene e qui veniamo a un altro se si può dire integratore stato nominato precedentemente collagene fondamentale perché l'osso non è che è fatto di calcio e basso sto calcio dove dov'è c'è una trabecolatura tridimensionale di collagene che rappresenta lo scheletro l'anima stessa dell'osso e tra l'altro vi ricordo che il collagene è presente anche nelle articolazioni nella pelle e quindi invecchiamento della pelle ma anche nelle pareti arteriose quindi collagene e nei muscoli quindi il collagene fondamentale è una proteina straordinaria che viene gradatamente purtroppo degradata con l'età da un enzima che si chiama collagenasi che degrada il collagene questo collagene non viene più ripristinato velocemente come in giovane età e quindi si impoverisce chi è che regola questa collagenasi e qui veniamo al sesso femminile estrogeni e progesterone estrogeni progesterone regola le cosiddette metalloproteinasi che sono collagenasi ed elastasi perché c'è anche nella stima regolate anche nel maschio dal testosterone insomma è una magica sinfonia un'orchestra meravigliosa per cui anche gli ormoni giocano un ruolo importante quindi integratore collagene idrolizzato peptidi di collagene idrolizzato che è il migliore in assoluto poi dovrei parlare davide di un'innovazione un'innovazione che cos'è sono i peptidi iniettabili ah questi sì sì li ho sentiti io guarda io aspettavo che li nominassi infatti questa sera me li tira fuori perché è una novità che arriva ad oltreoceano però esatto diciamo eh vai allora i peptidi iniettabili è una novità negli stati uniti sono usati ormai da anni nelle cliniche di beverly hills e li fanno senza problemi tranquillamente tutti questi attori che vedete in splendida forma non è che si hanno anche magari una buona genetica ma vi posso garantire che fanno tutti questi trattamenti cosa sono questi peptidi sono catene di amminoacidi catene polipeptidi catene di amminoacidi quindi diversi amminoacidi eh che hanno una funzione ormonale considerate che per esempio è nominato l'ossitocina prima in l'ossitocina è un polipeptide no il gh è un ormone polipeptidico no catene di amminoacidi catene di amminoacidi che vengono iniettati sottocute tipo eparina tanto per intenderci hanno una capacità eccezionale straordinaria di rigenerare i tessuti rigenerare hanno delle sigle sono naturali hanno sono di derivazione timica dal timo che è una ghiandola primordiale che poi subisce un'involuzione o anche dalla parete gastrica hanno delle sigle particolari eh tb500 in particolare la quella più interessante t come torino b come bologna 500 e bpc 157 queste due sono le più interessanti bpc bologna se qualcuno volesse queste sono le due interessanti vengono anche assemblate insieme bisogna fare dei cicli e hanno uno straordinario potere rigenerante in italia sono pochissimo conosciute ovviamente all'estero sono più conosciute negli stati uniti non dico che siano di routine ma quasi vengono utilizzati proprio per le osteoporosi eh in america io conosco delle dei centri che li utilizzano con grandi risultati anche l'artrosi eh non solo l'osteoporosi artrosi osteoporosi osteoartrosi e osteoartrosi ovviamente certo è associata è associata poi non non si può non dimenticare il silicio perché spesso si allora il silicio è il minerale più diffuso sulla terra il silicio no viene spesso dimenticato no perché si parla sempre di calcio di calcio di calcio di fosforo di calcio ma si siamo gli ambulatori sono ancora fermi a vitamina d e calcio esatto invece silicio è importante prima una signora se non sbaglio ha nominato l'equiseto l'equiseto è ricco di silicio ma anche il bambù il bambù è ricco di silicio tra l'altro viene utilizzato anche come anti agglomerante non so se lo sapete nei prodotti nei in alcuni integratori viene proprio utilizzato la silicio naturale da bambù eh al posto di altri anti agglomeranti che sono invece decisamente tossici come il biossido di silicio e il biossido di titanio che non vanno assolutamente bene quindi il silicio non deve mancare quindi eh oppure anche altri microminerali eh perché non dimentichiamo c'è un microminerale cosa vuol dire micro c'è bisogno di poco come il boro il boro il boro e anche il selenio selenio tra l'altro interessante per la salute della tiroide ma anche il molibdeno sono tutti microminerali che sono utili proprio anche per la salute delle ossa in realtà noi abbiamo anche oro e non tutti lo sanno ma abbiamo piccolissime abbiamo anche piccolissime quantità di oro nel nostro corpo però ecco talmente piccoli che ha dei valori alti non vale la pena di andarla a estrarre è estremamente estremamente piccolo quindi diciamo che non è però ehm integrazione che fa la differenza la differenza la fa ribadisco visto che siamo in chiusura poi diamo spazio alle domande eh e e comporre tutto il mosaico cioè mangiare bene con l'adeguato apporto proteico e riducendosi perché poi non avevo finito la parte di alimentazione riducendo tutti i farinacei perché oggi si abusa di questi benedetti maledetti prodotti da forno d'accordo sono buoni sono economici si trovano da per tutti creano dipendenza però creano anche devastazione perché tutto questo eccesso di carboidrati di cui si infarcita la pubblicità crea glicazione e qui veniamo a parlare della glicazione poi passeremo alle domande no la glicazione cos'è è quella reazione biochimica di caramellizzazione quindi di alterazione della struttura proteica si formano delle glicotossine per cui viene glicato il collagene viene glicata l'elastina viene glicata l'emoglobina nel diabete così sanno queste cose ma non è solo l'emoglobina tutto viene glicato quindi chi abusa chi mangia e tutta sta pasta e focaccine e pizzette merendine biscottini eccetera si glicca non c'è niente da fare quindi riducete questi benedetti carboidrati che non c'è bisogno di avere una valanga di carboidrati perché non lavorate nelle miniere di messer satanasso o di salomone e non fate i tagliaboschi non c'è bisogno di avere tutto sto carburante di carboidrati e comunque il migliore carburante è il grasso e lo insegnano gli eschimesi gli eschimesi che lavorano lavorano loro vivono in condizioni ambientali disagevoli non hanno supermercato sotto casa devono fare chilometri per andare a pescare mangiano la focaccina mangiano i biscottini mangiano la pasta no loro mangiano carne di foca e pesce eppure hanno bassissima incidenza di malattie cardiovascolari praticamente le demenze semine sono sconosciute e il diabete pure e hanno una fertilità eccezionale e questa la natura insegna vedete seguite sempre la natura esatto imparate ad ascoltarvi ho pubblicato circa un anno e mezzo fa un articolo proprio per agganciarmi al discorso degli zuccheri in eccesso che era una review molto bella dove si chiedevano sì è vero che l'eccesso di sale in caso di demineralizzazione ossea può esserci una correlazione ma in quella review viene proprio mostrato come sì l'eccesso di sale ma anche l'eccesso degli zuccheri esatto e quindi era uno dei primi studi sono poi esplosi no di studi in tal senso no che poi si ricollega il discorso degli age al discorso cardiovascolare che dicevamo prima no che dicevamo all'inizio adesso sono arrivate ancora se hai qualcosa ancora da nominare perché ce ne sono tanti no sai che io poi sono un fiume in piena essendo anche e quindi poi parlerai per ore però va bene siamo già a un'ora questi qua sono e questi qua sono diciamo i più importanti poi ci sarebbe da fare proprio una una diciamo serata di fitoterapia per l'osteoporosi chiaramente certo allora senti facciamo iniziamo con i vari botte risposta che secondo me potrebbero essere interessanti anche qua magari dedichiamo una puntata proprio per loro per i latticini e giulietta i latticini hanno due due diciamo agenti negativi uno è lattosio che comunque uno zucchero che noi non digeriamo facilmente perché non abbiamo più la lattasi tra l'altro la nostra lattasi è specie specifica e quindi è una lattasi umana ma è certo una lattasi vaccina e secondo agente negativo è la caseina e non lo dico io plurimi studi pubblicati dicono che la caseina è un agente pro infiammatorio poi per carità esistono caseine caseine più o meno infiammatoria la caseina vaccina è più infiammatoria la caseina pecorina e caprina è meno infiammatoria però ecco diciamo che non è certo un elemento un alimento un alimento eh elettivo chiamiamolo così eh più godereccio ma non elettivo certo certo allora io rimarrei sulle domande inerenti al tema eh perché se ci mettiamo a parlare di anche del terapia del teriparatide tutto non ne usciamo ma io non ho nominato tutto chiaro che eh c'è anche quello ma se vi parlo di tutti i farmaci per l'osteoporosi facciamo un'altra trasmissione eh no ma ne abbiamo guarda ne abbiamo fatta una sugli effetti collaterali che è durata circa due ore e mezza due mesi fa quindi eh andatevela a cercare su youtube perché è stata molto bella allora io direi di partire da qua allora l'MSM serve metilsulfonilmetano? Sì allora sì chiaro metilsulfonilmetano è interessante eh è interessante soprattutto nei casi di osteoartrosi non dimentichiamo no? Insieme alla chondroitinsolfato glucosamina solfato metilsulfonilmetano è interessante e va bene ecco certamente come l'indolo tracarbinolo l'indolo tracarbinolo anche questo è molto è l'estratto di broccoli tanto per intenderci ha un'azione regolatrice proprio delle degli ormoni proliferativi antiproliferativi e anche eh contenendo zolfo perché è un isotiocianato è utile proprio nei casi di osteoartrosi. Allora qualcuno ci dice ci chiede la salvia? La salvia? L'oxilitolo? Bah no la salvia è interessante perché in effetti all'oro salvia contengono calcio buona quantità di calcio biodisponibile sinceramente l'oxilitolo non vedo cosa c'entri con l'oxilitolo quello delle cicche. Sì non vedo cosa c'entri con l'osteoporosi cioè nel senso io tra gli zuccheri ah forse voleva dire ma come zucchero allora tra gli zuccheri io non uso edulcoranti proprio l'unico che uso è il miele biologico di acacia per edulcorare qualcosina perché il miele biologico di acacia contiene i metaboliti della crisina e la crisina evita la trasformazione del testosterone in estrogeni quindi questo mi interessa particolarmente e regola anche il rapporto estrone proliferativo antiproliferativo e poi ci sarebbe l'eritritolo sinceramente l'oxilitolo io non lo uso. Certo certo un altro aspetto un'altra cosa secondo me da chiarire stasera interessante è che quando vogliamo agire con una molecola un nutraceutico particolare sicuramente deve essere mono ingrediente hai parlato degli edulcoranti ma proprio di un discorso di cercare cercare per esempio parlando del collagene o quant'altro di cercare di integrare quella molecola che ci interessa da sola esatto proprio per un discorso biomolecolare esatto 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 e poi guardate sempre la titolazione la biodisponibilità perché non basta solo leggere l'ingrediente per esempio contiene vitamina c sì ma biodisponibilità e titolazione che è la quantità effettiva ecco le forme per esempio sublinguali sembra che abbiano proprio una maggiore biodisponibilità offrono una maggiore biodisponibilità rispetto alla classica esatto 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 addirittura una vitamina non posso dire il nome esiste anche addirittura una vitamina c spray sublinguale molto interessante certo allora senti questo è abbastanza rinomata questa cosa però c'è un tetto massimo no al caffè peggiora l'osteoporosi allora sì e no diciamo che il caffè in realtà se viene bevuto a quantità adeguate adesso vediamo qual è la quantità adeguata non peggiora l'osteoporosi assolutamente e nella la diciamo la induce logico che oggi mi è capitato una paziente che deveva 12 caffè al giorno è chiaro che qui stiamo andando oltre il limite accettabile e oltretutto lo beveva dalle famigerate cialde cioè le capsule di caffè le capsule di caffè sono da bandire assolutamente sono un pessimo regalo della tecnologia attuale sono interferenti ormonali che siano di plastica che siano di carta che siano di alluminio oltretutto sono a non sono nemmeno eco compatibili creano inquinamento quindi cari cari amiche ritornata alle vostre moche di acciaio e non di alluminio o al limite ad espresso da bar se si rimane nei limiti dei tre caffè al giorno e se uno è un metabolizzatore tutto sommato veloce e non lento non ci sono problemi il limite se uno già supera il limite dei tre e allora vabbè il caffè può avere degli effetti anche negativi ma non solo su osteoporosi certo certo senti le vitamine colloidali le vitamine colloidali possono andare bene certamente sì anche allora una domanda che si è ripetuta molto spesso claudio uno stato di acidosi può contribuire a peggiorare l'osteoporosi per cui è necessario alcanonizzare parla sicuramente di un acidosi indotta dalla dieta cioè una dieta di raffinati certo sono un acidosi con un ph alterato perché noi abbiamo dei sistemi di regolazione del ph molto sofisticati che non è certo l'alimentazione che può alterare il ph ci mancherebbe il nostro ph del sangue leggermente alcalino come sapete abbiamo sistemi tampone molto efficaci è evidente che uno stato di dieta ecco forse la claudio voleva dire una dieta con un eccesso di alimenti acidificanti magari uno mangia solo carne formaggi e cereali sapete che non è solo la carne e i formaggi ma anche i cereali sono acidificanti è chiaro che mette a dura prova i nostri sistemi tampone e quindi sarebbe interessante alcalinizzare la cosa più semplice mangiare intanto non mangiare tutto sto abuso di cereali e poi sostituirli con la verdura la verdura come sapete alcalinizzante quando noi non riusciamo adeguatamente alcalinizzare poi esistono anche delle degli integratori che possono essere utili all'occasione non faccio i nomi ma sono semplici da trovare certo senti mara appunto ci metta il corrente che l'oxilitolo sembra che sui ratti favorisca la fissazione del calcio per noi è nuova questa cosa sinceramente questo studio non lo conosco andrò ad indagare che l'oxilitolo sui ratti ma ribadisco noi non siamo ratti ecco e allora morin l'omociste in alta sappiamo che una l'omociste inemia può essere anche correlata con l'osteoporosi solo complesso bio a o anche altro allora intanto precisiamo se sia una qual qual è l'iperomociste inemia allora un'omocisteina ottimale a mio avviso è sotto 10 mentre i laboratori purtroppo riportano valori addirittura oggi ho visto in studio un valore fino a 24 che è assurdo assurdo tenete presente che anche lì i laboratori americani di cui ho letto i valori presentano un valore massimo 8 io accetto massimo 10 ideale 8 sopra 10 campanellino o spia d'allarme cosa significa significa deficit di metilazione quando c'è una iperomociste inemia c'è un deficit di metilazione con un'azione biochimica molto importante correlata al rischio cardiovascolare non solo all'osteoporosi della neurodegenerazione e altro ancora cosa fare in questi casi beh innanzitutto migliorare l'alimentazione e ne abbiamo già parlato tra gli integratori complesso vitaminico b in particolare però il metilfolato non l'acido folico ma l'acido folico metilato metilfolato quindi non adesso io non voglio fare il nome commerciale non quel prodotto che generalmente viene dato che quello è acido folico invece il metilfolato insieme anche alle altre vitamine b che devono essere metilate quindi per esempio la vitamina b12 deve essere metilata e ha una molecola molto interessante che si chiama trimetilglicina o betaina e anche il sam s adenosilmetionina tutte queste sostanze sono utili perché sono donatori di metili e abbassano molto efficacemente l'omocisteina certo senti cosa ne pensi della melatonina melatonina è fondamentale a mio avviso è il direttore d'orchestra della magica sinfonia ormonale la melatonina non ha solo straordinarie come sapete azioni per quanto riguarda ritmo sonnoveglia ma è un po di azione antiossidante non solo ma rigenera i fibroblasti del collagene azione che pochi conoscono e tra l'altro è antagonista del cortisolo e agonista cioè lavora in sinergia con il gh tra l'altro ha recettori anche a livello cerebellare e quindi è interessante anche per la postura e l'equilibrio alla melatonina e anche per la rigenerazione parodontale quindi la melatonina è straordinaria hai detto una cosa importante la melatonina ha un picco endogeno quindi di produzione per l'una di notte il gh idem 11 una di notte cosa significa che bisogna dormire bene per avere delle ossa sane quello è indiscusso e appunto una carenza oppure la la sua integrazione può aiutare appunto il lavoro del gh ricordo che il gh per chi non lo sapesse è l'ormone della crescita l'ormone che manda informazioni al muscolo e conseguentemente anche all'osso di crescita quindi è fondamentale per tutto questo processo e come hai detto tu bene è un po il direttore d'orchestra la melatonina la melatonina tratto il gh infatti quando una un eccesso di gh no esistono delle patologie in cui si è un eccesso di gh questo porta ad un aumento delle dimensioni di ossa tipicamente l'acromegalia no questa mandibola molto grossa oltre ossa anche il gh come il colesterolo ha avuto i suoi detrattori ha avuto una demonizzazione no guai attenzione gh non bisogna stimolare gh eccetera ma chiaro che non bisogna sovrastimolarlo ma se noi manteniamo il gh che oggi si misura anche attraverso di gf1 no e allora e rimaniamo nei limiti fisiologici gh è straordinario è un agente molto interessante quindi non bisogna azzerarlo e demonizzarlo purtroppo alcuni hanno demonizzato gh e hanno fatto la loro fortuna diciamo anche dal punto di vista commerciale non diciamo che certo senti cosa ne pensi invece della integrazione di calcio allora beh l'integrazione di calcio ci può stare però sempre diciamo deve essere comprovata da una reale carenza quindi bisognerebbe fare tutta una serie di esami per cui sia una calcemia una valutazione della calcemia la valutazione della calciuria nelle 24 ore non è che uno prenda calcio così ma infatti guarda io infatti volevo guarda volevo confrontarmi proprio contesto questa cosa allora viene data l'integrazione ok sulla base di viene analizzato il calcio nel sangue magari anche la calciuria e quant'altro ma la maggior parte degli studi non chiedono neanche non è che dico che richiedono un di aria alimentare ma non chiedono neanche che cosa le persone mangiano ora l'integrazione di calcio deve dipendere da quanto anche diciamo calcio attraverso gli alimenti introduco durante la giornata infatti è l'acqua che bevo per esempio quindi secondo me c'è questa pecca grossa nel senso che noi andiamo a vedere integrazione di calcio sì ma sulla base di cosa solo dei valori ematochimici no soprattutto su quello che andiamo a mangiare perché ci sono tante alimentazioni che poi andiamo a verificare e sono veramente scarne ma in tutti i sensi infatti il primo intervento come ho detto il primo pilastro è la è la corretta alimentazione il primo pilastro è quello quindi cercare di aumentare l'apporto di calcio con una corretta alimentazione calcio biodisponibile calcio biodisponibile per esempio i cefalopodi sono ricchi di calcio biodisponibili la signora prima ha ricordato la salvia no alloro salvia hanno calcio biodisponibile certo senti qualcuno ci dice vitamina k in quale alimenti e contenuta allora nel diciamo nei vegetali a foglia larga ci sono vitamina e poi viene prodotta dai nostri batteri intestinali comunque ecco infatti 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 allora roberta benvenuta non basta prendere il sole tutti i giorni per 20 minuti invece della vitamina d allora qui una bella domanda perché effettivamente si ricollega quello che avevo detto prima che anch'io non sono un po contrario a prendere 365 giorni all'anno di vitamina d allora io cosa faccio personalmente nel periodo estivo non prendo vitamina d e quindi diciamo luglio agosto settembre parte di ottobre poi dipende uno dove abita logico uno abita in sicilia sul mare un conto se uno abita in trentino alto adige è diverso è chiaro no oppure nelle nebbie della pianura padana e invece nel periodo autunno invernale ecco questo periodo magari in cui si sta chiusi in casa giornate corte si sta chiusi negli uffici e non si ha il tempo di fare 20 minuti al giorno che sarebbe la cosa migliore sono io il primo a dire e beh allora è ovvio che bisogna poi fare una integrazione addirittura una supplementazione di vitamina d ma ove possibile sono io il primo a dire che la il sistema naturale è il migliore cioè raggio ultravioletti tra l'altro devono essere nelle ore diciamo quelle che i dermatologi dicono di non prendere sole perché delle esattamente da mezzogiorno alle due grosso modo che sia sia la maggiore di vitamina d e dovrebbero bastare giusto quei 15 20 minuti al giorno ma chi è che tutti i giorni può stare 20 minuti al giorno al sole sempre ammesso che ci sia il sole allora ti dico un attimino certo ti dico un attimino la mia strategia visto che posso farlo io mi alleno tutto l'anno anche d'inverno sempre all'aperto ok mi sono costruito la mia palestra all'aperto e quant'altro anche quando piove sì perché spesso me lo chiedono mi espongo alla luce ma cosa faccio anche vado a dosare due volte all'anno la vitamina d in momenti strategici perché devo verificare se poi effettivamente la esposizione è sufficiente o no quindi il concetto è premesso che abbiamo dato dei valori stasera di esempio no dove una persona che ha una condizione di osteoporosi dovrebbe stare sopra i 50 e andate a regolare segue una persona che sta facendo questi esperimenti al quale è stata data l'integrazione di vitamina d ma dice io voglio provare estate abbiamo provato abbiamo visto che esponendosi e quant'altro era su certi valori e quindi non aveva necessità di andare ad intervenire con l'esogeno bisogna imparare uno ad ascoltarsi e due facciamo delle prove facciamo delle prove anche io faccio così me la misuro due volte all'anno poi ci sono dei periodi anche perché ecco io dico sempre questa cosa dipende molto anche dalla funzionalità delle vdr che sono praticamente i recettori della vitamina d e lì per esempio la persona obesa proprio l'intrappola è quindi la persona obesa più difficoltà no nella più trasformazione l'utilizzo nell'azione della vitamina d quindi ci sono delle variabili che vanno verificate in tal senso allora c'è una domanda sulla esercizio fisico poi chiudiamo allora una camminata passo veloce va bene per stoporosi quante volte a settimana e quanti chilometri in media giornaliere allora ma meglio che niente sì però insomma non è sufficiente allora se uno magari ha 90 anni e vabbè d'accordo gli concediamo sta camminata passo veloce però se la signora ha 50 60 anni direi che potrebbe fare qualcosina di più che una camminata passo veloce quindi come a milano si dice piuttosto che nelle mail piuttosto però però ve l'abbiamo detto qui si tratta di dare un impatto all'osso quindi di sfidare la resistenza dell'osso con dei piccoli carichi e verosimilmente qualunque sia la tua età è molto difficile che migliori con la camminata passo veloce a meno che non ci abbini degli esercizi particolari ma ripeto la personalizzazione è sempre la prima cosa perché ci sono delle variabili importanti se sei un'ex sportivo o quant'altro rispondo a questa domanda interessante sempre sull'esercizio il Feldenkrais può servire è un'ottima attività che lavora sulla consapevolezza corporea allora è una tecnica è una tecnica per che lavora proprio sulla consapevolezza corporea con degli esercizi di connessione mente corpo eccezionale proprio per la motivazione della quale ho parlato io personalmente questa sera per comprendere come ci si muove nello spazio l'orientamento spazio temporale del proprio corpo nelle gesta ma se ci aspettiamo di migliorare la mocco col Feldenkrais siamo fuori strada e ancora qualcosina addirittura vitamina D c'è tanta ginnastica con i pesi qualcuno letto dello sci anche ha scritto qui c'era un'altra domanda ancora sul elevato livello di progesterone non progesterone ci può favorire la produzione di calcoli alla colecisti un elevato livello di progesterone il progesterone e non progesterone poveri produzione ma io questo studio non lo conosco lo andrò a cercare che il progesterone bioidentico possa determinare calcoli alla colecisti e la prima volta che lo sento e non progesterone mi sembra strano vorrei vedere sto professor cattani poi elevato livello solito discorso elevato livello ci vuole un livello fisiologico cioè ci vuole sempre la giusta misura quindi controllerò questo studio del professor cattani mi sembra strano che proprio progesterone bioidentico e non i progestinici diano calcoli alla colecisti e poi voglio capire qual è questo elevato livello certo allora è utile questo chiarimento allora l'osteoporosi fratturativa sicuramente ha un percorso molto più lento molto più graduale molto più incentrato su esercizi per il core quindi parte centrale del corpo che rinforzino glutei interno coscia e quant'altro ma prima di partire con degli esercizi che ha nominato prima francesco il cammino è un po' più lungo ma non è che non si può arrivare a fare bodybuilding per carità si può importante è chiaramente vedere il punto di partenza ok allora direi che ci siamo senti francesco direi che abbiamo detto tanto troppo forse perché avevamo addirittura spattiato però siamo stati credo abbastanza chiari anche anzi ditecelo nei commenti no se se vi è piaciuta la diretta ne sono già arrivati tanti di di complimenti io vi ringrazio tanto a tutti soprattutto di essere stati con noi addirittura qualcuno chiede sui fanghi termali se sono consigliati per migliorare l'osteoporosi io direi proprio che se ti aspetti coi fanghi il miglioramento no addirittura grazie claudio chapeau allenarsi con i cavi su una panca che usa il peso corporeo può prevenire certamente dipende dal punto di partenza quali sono attualmente i personaggi il personaggio che reputi più importante in questo momento in italia per quanto riguarda la divulgazione scientifica nel campo della medicina e medicina salute benessere è tutto ciò che è felicità e chi invece reputi che sia il più spazzatura lo so che in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta soprattutto nel periodo po covid che ha messo in evidenza diciamo personaggi questa è una domanda sì questa è una domanda sì una domanda per farci due chiacchiere prima di chiudere ma allora uno che apprezzi in questo momento allora diciamo che io sono presidente di un'associazione di medici che si chiama amie associazione medici italiani evoluzionisti che conta molti professionisti che sono veramente illuminati lavorano per la medicina del futuro medicina preventiva quindi fare il nome di uno e non di un altro io non posso nominare tutti allora no dicevo proprio in linea generale non tanto un collega tuo ma più che altro magari qualcuno che hai apprezzato negli ultimi negli ultimi anni negli ultimi mesi che ti ha colpito e che secondo te sta facendo delle gesta interessanti sul guarda io sarò un po controcorrente e anziché diciamo nominare un medico che ha anni di esperienza e che è un famoso sul campo d'anni voglio nominare un mio giovane collega che si chiama valerio solari che sta facendo molto diciamo divulgazione nel web e si è appassionato tantissimo alla materia mi ha seguito molto partecipato anche a miei due corsi anti aging teorico pratici e devo dire che è molto preparato e si vede io vedo subito quando una persona è appassionata e va a spaziare oltre il minimo indispensabile quindi faccio il suo nome proprio perché lo considero un giovane preparato che si fa la strada sicuramente tra quelli che no che disistimo beh attenzione perché poi ci potrebbero chiudere la diretta da un momento all'altro sono quelli che sono quelli che campeggiano in televisione li troviamo sempre in televisione a bofonchiare e a borbottare a dire cose ma poi alla fine basta guardarli che ci accorgiamo subito che non sono né coerenti né credibili io dicevo prima ho detto prima una cosa prima di entrare in diretta con voi a francesco e la ripeto francesco è molto gradevole come persona l'avete imparata a conoscere questa sera l'avete già conosciuta se siete stati in diretta con noi qualche anno fa però è davvero un qualcosa di incredibile perché perché quando vi parliamo in questo caso ci troviamo di fronte a una persona che mette in pratica tutto quello che dice e che vi sta divulgando questa sera infatti voi avete la possibilità di seguirlo sui social anche la sua pagina personale dove pubblica video e dove vi insegna esattamente quello che ha detto questa sera ovviamente questa sera abbiamo parlato di tante cose abbiamo parlato di integrazione e quant'altro ma i suoi video sono molto interessanti come interessante molto avete sentito dalle sue dirette parole il modo con il quale dimostra la sua passione avete anche la possibilità di conoscerlo perché ha fatto una bellissima iniziativa negli ultimi anni ti invito magari a dirci adesso siamo ancora guarda siamo ancora collegati tutti dopo un'ora e mezza quindi nessuno se ne è andato io ti invito a dire un pochino allora unico unico in italia e probabilmente anche al mondo perché non so di altri casi del genere organizzo corsi teorico pratici insisto molto sulla pratica anti aging in agriturismi in bed and breakfast dove mangiamo insieme quindi si pranza e si cena si fa colazione insieme c'è una ampia divulgazione di tutti i temi inerenti la medicina preventiva preditiva e rigenerativa cerco di utilizzare un linguaggio semplice ma rigorosamente scientifico ma soprattutto poi facciamo anche attività fisica insieme quindi facciamo attività aerobica anaerobica meditazione dedichiamo tempo alla gestione dello stress facciamo anche qualche prova simpatiche divertente a tutti diciamo non 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 bisogna fare gare magari facciamo qualcosina di più l'ultima volta abbiamo fatto l'attraversamento con la corda di un fiumetto facciamo delle prove anche simpatiche per allenare le capacità di adattamento al all'ambiente dove si svolgono questi incontri allora generalmente si svolgono in liguria in un bed and breakfast bellissimo vicino al mare in prima collina in provincia di genova alle spalle di chiaveri e l'ultima volta eravamo in trenta erano venuti anche dalla sicilia e dalla sardegna quindi alimentazione secondo natura ovviamente ovviamente alimentazione secondo natura ma soprattutto a metri zero perché tutto biologico qualcuno chiede sesso sesso certo sesso il sesso utilissimo nella gestione io ho scritto un decalogo sulla gestione dello stress il senso è fondamentale anche per l'osteoporosi certo e ovviamente è un'ottima mobilità per la per la catena del bacino per le anche allora grazie per averci ascoltato siamo arrivati fino alle 10 grazie a te francesco e magari torneremo a parlare di questo e e soprattutto grazie dei complimenti grazie che ci seguite condividete la diretta perché perché date la possibilità a tante persone che in questo momento si sentono confuse tristi gli è stato detto che dall'osteoporosi non si può uscire non può andare in regressione l'unica cosa che posso fare prendere il farmaco e aspettare non alzare le bottiglie della spesa per carità adesso possiamo cambiargli il futuro ok e quindi io è vero il sesso abbassa il cortisolo grazie a tutti voi grazie francesco alla prossima rimanete sempre collegati grazie